Bella a tutti ragazzi in questo nuovo video pazzo Io sono Patabolita e oggi siamo con White Con la live che abbiamo fatto prima Mi raccomando iscrivetevi al suo canale Che adesso vi dice qual è Si chiama White con la W maiuscola E Igor ve lo lascerà pure qua sotto in descrizione Ma intanto perchè noi stiamo saltando Voglio capirlo Andiamo dai villager a rapinarli Allora abbiamo in mente ragazzi No è un villaggio di quelli Diciamo andati a male Andati a male infestati dagli zombie Ecco qua c'è uno zombie villager Rubanculo Solo che Ragazzi abbiamo in mente pratichemente Praticamente di non usare la creativa Però solo solo Di usare La sopravvivenza vero? Si Una serie normale Dove il nostro obiettivo ovviamente è sconfiggere il drago del mondo Hai qualcosa da mangiare? Ciao zombie Non ho niente da dire Ho provato una carota Però Carote Carote Solo Carote Le regalo ai miei nipoti No Ah no dai Non mi ride C'è una C'è una ragnatela Sono impigliato da mezz'ora Aspetta io devo cercare Senti c'è un problema Noi che non abbiamo nessun'arma Ok Io ci ho messo 12 anni per uccidere lo zombie Eh anch'io Dai uccidiamo un po' di pecore Eh io ne l'ho ucciso proprio Senti c'è sto proprio Eh se non ci avevi letto Qua ci sono un sacco di carote E grano Io lo rubo tutto Ok Io intanto sto uccidendo delle pecore per il letto No il letto Lo devi cercare 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 Ah io me lo sono già preso Uno Ah ok Io sto uccidendo anche le mucche Andiamo a farci un villaggio O possiamo usare anche questo Che poi Andiamo da un'altra parte Andiamo Che questo qua fa schifo Aspetta per me inizia a prendere un po' di legno Vabbè poi andiamo nelle foreste Che proviamo chissà che cosa Allora Se vieni con da me c'è un po' di C'è il grano Le balle di grano Se non sbaglio Dove sei? Se riesco a trovarti È finito sto ragazzi Qua gli sto prendendo le balle di grano Che ho visto Che ci danno un sacco di grano Possiamo farci Ragazzi mi raccomando Chi segue White sul canale E me di più Oh guarda C'è No no Me di più No no Intendo me di più Per tutte e due Aiutami Arrivo con un fiore Il fiore risolve tutto Sono qua infigliata nella ragnatela Sto facendo Impossible Scusa C'è l'edimino a far così Ok c'è la prima cosa C'è la portiamo Con noi Io rubo anche questa È vero anche la cesta da prendere Io mi rubo questa qua Aiuto C'è un problema Vieni verso di me Vieni verso di me C'è un problema Vai verso di là Ecco ora devi fare un salto unico Prendo la campana Eh che non può montare No no Non posso prenderla Peccato Aiuto c'è una zombie da me Dai ora ce ne andiamo Andiamo un po' Sì Dovevo andare sulle montagne Boh Per me va bene C'è ragazzi dovete sapere Che questa serie La faremo andare Tanto Perché Sarà divertente Vero? Speriamo Speriamo Dai vieni qua Comunque alcuni iscritti Si sono aggiunti Eh Ho 18 iscritti Sì Per ora Eh buono Dai andiamo Se ti trovo Io sono un fiorellino Che mi fa compagno Zombie vuole uno fiore Uno fiorellino Sì Guarda Guarda Ragazzi Chi seguirà lui White Io gli do un fiore Ma nessuno Interessano i fiori Quindi Dove andiamo in mezzo Dalla foresta Di quercia Ti dico che sta diventando buio Eh Ecco A ver Tanto abbiamo i letti Però Se ci sono i Bene Bene andiamo verso la foresta Ok Di quercia Tu hai qualche cibo Io Sì Ho un po' di carote Se vieni qua Te ne do un po' Poi ragazzi Noi abbiamo in mente Tipo di far Diventare Eh Guarda Piazziamo il letto E ci mettiamo a dormire Dormi subito Così Non arrivano i mosche Possiamo continuare A cercare un buon punto Per Oggi ragazzi La serie Sarà tipo di più A A cercare i punti Perfetti Per Accamparci Accamparci Eh sì Alla campana Accampar What? Cos'è? Cos'è? Cosa? Un tempio Dove sei? Sono qua Ci siamo già persi Non ti vedo Ci siamo già persi Ma tu sei andato Sottoterra? No Sei andato Verso la foresta? No Ero dove abbiamo Dormito Ah Arrivo Io Stavo andando Verso Ecco Igor Ti vedo Sono andato A destra Dietro Ecco Vieni Quella roba strana Sembra un portale C'è il portale del nether Possiamo costruire qua L'accampamento Ma c'è anche un altro villaggio Sì dai facciamolo qua C'è un altro villaggio La infondola Proprio Io lo faccio Su questa isoletta Oh piccone d'oro Ascia d'oro Pepite d'oro Il modoro Mi dai qualcosa anche a me No Tutto mio Oh c'è pure un blocco d'oro Sì ti do qualcosa Ti do Ti do Ti do Ti do C'è raga Questo video durerà un po' Perché Ti do Ti do Ti do Ti do Ti do Ti do Grazie Così possiamo prendere un bel po' più Mi sento come stregatto Strecacchio Stregatto Non mi ricordo Non mi ricordo più Aspetta Come si apre l'inventario Che adesso Non riesco più a usare Niente È troppo veloce La mia è troppo veloce Igor Guarda Allora Io lo faccio Su questa isola Io Non lo so Ah dove hai farsi questa isoletta Sì Io me la faccio qua Aspetta La faccio diventare io un'isola Spacco un po' di blocchi Mi aiuti Per questa roba Tu se vuoi puoi farlo vicino al portale Per me sai che cosa possiamo fare qua nell'isola Oh cacchio Si è già rotto Ok Ok Non comment O qua possiamo fare una torre di controllo No no Fai pure te la tua casa lì Si è già quasi rotto il pic E a me si è già rotta Ma a me è bene Per fortuna non ho ancora Allora Ragazzi Se volete sapere Questa serie Noi la porteremo Un giorno facciamo anche la live Su questo se vuoi Se volete Poi scrivete Scrive Scrive Oh White Oggi non riesco più parlare Fide Ho notato Igor C'è Ma un po' Appliva Sembrava un tipo come quei personaggi dei film Ma certo Quali film guardi Non ho capito C'è Quelli Casetta sull'acqua O fa Che palle Che palle Tu sei per caso come si fa un accendino Si ma ci serve il ferro e non ce l'abbiamo Vabbè piano piano con la serie E non ci andiamo Un peccato che non ci è strizzin Eh lui ha dei problemi con minecraft Non riesce a giocare Peccato Io ho una serie con tutti e tre Un po' la mia casetta Questa qua Ragazzi se volete entrare anche voi Però non dovete fare casino Vero? No no Tra loro Poi noi abbiamo la nostra password segreta Eh Io mi costruisco Hai fatto il villager Un villager scusa Mi faresti un favore? Mi aiuteresti Con questa roba? Che senso? Ehm Con questo Con quello che sto facendo Perché c'è uno zombie vicino a me? Cosa stai facendo scusa? Se ne può andare a quel paese per favore Ma hai fischiato? No Ma vuoi morire? O devo evocare anche tua zia? Ok Lisa ora è tranquilla Io ora ora anche io la mia isoletta diciamo Ti immagini se qualcuno ci griffa il mondo? No non ci griffa niente nessuno Protengo io Con il mio bastoncino e il mio piccone Oh fortuna uno sul piccone Che fortuna Ma tu giochi da pc adesso? No no io gioco da playstation Come va sul pc? No sul pc non gioco niente Devo Io direi di andare a scavare un po' di pietra Aspetta io sto ripulendo ancora l'isola dagli alberi Ah ecco ti E vabbè tu rimani lì Io inizio ad andare a prendere un po' di pietra Ti ricordi l'altro mondo Che avevamo fatto? Eh sì Ragazzi se volete un giorno facciamo una festa tutti insieme su fortnite Chi sarà fortunato? Tutti su Colosseo Andiamo tutti su Colosseo e vediamo quello più forte Anche squadre Però ragazzi No no Colosseo Facciamo così White Così Allora Noi metteremo una password sul tuo canale Sul mio canale? Perché sul mio canale? Fidati Così sappiamo che Chi ti ha cercato Può entrare con noi A fare tranquillamente La Una live E poi Entra con noi a fare una live E Si godrà Un piccolo pomeriggio Con noi A giocare a fortnite o a minecraft Facciamo meglio fornite Che muro hai strato Cioè ci sta Ok io ho finito Per ora Ora Igor facciamo il taglio Qua tagliamo tutto Da questa parte qua Andiamo un po' avanti Allora se non ti dispiace Io inizio a fare Un po' il muro Un po' il muro Della mia casa Stabilirmi Eh? Tanto è casa tua Puoi fare qualcosa che vuoi Allora Eh Vieni un attimo fuori Perché voglio vedere Dove ti sei stabilito Così metto Tipo la porta Un po' verso di te Sì Vieni Ah Eccoti Sì sì Ti ho visto Allora qua posso lasciare Il libro Io non mi sono stabilito qui Io mi sono stabilito Là dove ci sono quei pezzi di legno Nell'acqua Vabbè Fa niente Noi Io inizio qua Così Vedi Io sono da questa parte Igor Aspetta Aspetta Ovviamente ragazzi Come vedete Noi In questo mondo Non vogliamo fare niente Di creativa No Igor Questa è questa parte Noi vogliamo ragazzi Dobbiamo tagliarla Staparte No No Continua così La casa Poi Poi continuiamo a parlare No Allora Qua mi serve Una crafting table Ma Facciamo che abbiamo Le cose separate Vero Che senso Tipo Io ho le mie cose Due le altre cose E ce le scambiamo Per Boh Quello che ci serve Sì Tipo a me serve Un diamante Ti scambio per 200 panini Esagerata Perché sei un mio amico Meno Ma no Ah ok ok Mi sono spaventato Pensavo che per la porta Non bastavano Se vuoi ti do una porta Che io l'ho già Poi Poi Ci metto la porta Tac Io la faccio un po' colorata Ok Stiamo andando bene Per ora Io ho iniziato A fare la piantagione Anche Ok Io intanto Sto mettendo le cose Dentro la chest Che Ah cavolo Non ho un piccone Me lo devo fare Assolutamente Ragazzi Minecraft Senza piccone Cos'è? Uno schifo Mettiamo un po' di cibo Hai preso la chest Vero? Io si L'ho preso L'ho preso No in che senso Hai preso la chest? Ora dobbiamo ancora dormire Il villaggio E si Andiamo Io ho già Vuoi fare dopo Un tour Nella mia casa? C'è Un po' costruita Prima finisco anche la mia Così facciamo il tour Di tutte e due Ora finisco di prendere Niente dalle ceste No no Non prendo niente Dalle ceste Se tu non prendi niente Da me No no Se vuoi Vengo con tutto vuoto E ti svuoto tutto Così vedi No 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 svuoto tutto Per farti vedere Che non ho preso niente Ah ok Se per me hai capito Un'altra cosa Io mi sono messo a letto Ora arrivo Aspetta Ah che mal di schiena Devo proprio comprare una sedia Dopo questa registrata Vado a ordinarla Su internet Mamma mia Letto 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 Ok Io inizio a scavare un po' di sabbia Così almeno Mi faccio Guarda Mi daresti Tu hai qualche Come si chiama Legno non posso darne No no Legno Ah no Cacchio Cosa No Che palle Devo scappare da casa No Sono in vaso Da cosa Un zombie morto E dai mostri Ah Tipo un ragno Ma i ragni Io non ho capito Se tu non li fai niente A quelli Loro non ti fanno niente Di giorno Non ti fanno niente Di notte Di notte ti attaccano Sono assettati di sangue Esatto Io non mi ricordo Se ho fatto la doccia Oh due mele Ma si Che hai fatto Due mele Due canguri Cosa c'entra Non lo so A te serve di più Quercia o betulla Aspetta Che mi sto raccogliendo Tutto Poi Allora Mi faccio Un piccone Che quello Mi serve Tantissimo Poi Mi serve Facciamo anche Due picconi Per sicurezza Poi Mi serve Un'altra cesta Che Poi mi servirebbe Aspetta Ovviamente Non possiamo Dimenticare Del Come cacchio si chiama Della spada E dell'ascia Uh ho trovato Il ferro Come Uno solo No No È una spada Io intanto sto facendo Ah no ecco altro ferro Carbone Ma la tieni anche Per me Con la zona Che senso Perché la vorrei Anch'io Che adesso Arrivo Cos'è tre pezzi Di ferro Allora Questa La lascerei Qua Così Poi anche Questo Questo Lo lascerei Così I semini Qua Questo Qui Da quanto Non facciamo I video Insieme A parte C'è uno Scheltro Che mi guarda Malissimo Io Non so Tu dove Ti sei Piantato Mi sono Messo Un po' A caso Hai fatto A te La struttura Un po' Di legno Sì Sì È mia Quella Quella Che ti dicevo Prima Ah Ecco Perché Non riesco A fare Un botto Di fame Ma Non c'è Nessuno Dove Alla Struttura Eh Io Sono Sotto Terra Ah Ecco Ho trovato Il tuo nome Mi potresti lasciare Anche a me Un po' Ciao Aia Aia Mi stai uccidendo No No Fermo Aia Non mi hai fatto male Ti volevo vedere Una carezza Ok Altri 16 pezzi Sto facendo Sto prendendo le cose Dalle forn Cioè sto prendendo le cose Per la fornace La tua casa Che pronto è Quello che ho visto Si Ora la sto facendo andare avanti ancora Ma l'hai fatta solo a sabbia Non tutta Perché io l'ho fatta Guarda Guarda L'inizio di casa mia Cioè lo vedi anche da lì Aspetta un secondo Cioè viene un attimo Un sacco di quercia Se vuoi te la do io Hai della quercia da scambiare Vediamo se ce l'ho Cosa ti serve Allora Ti dico La quercia L'ho già fatta io E ti posso dare E ti posso dare quella Già fatta 20 stanno No a me fermano I tronchi proprio Ah se vuoi te le procuro Se vuoi Facciamo così su questo gioco Che possiamo fare anche tipo Delle missioni Tra di noi Ci facciamo gli scambi Si Ci facciamo Usiamo tipo Il baratto Ho fatto due fornacci Perfetto La fornace La piazzo qua Poi questo Cacchio Ok io ho preso Il baratto Di nuova Lo spazio è un po' pieno Che Dopo non riesco A muovermi Quindi Facciamo Tipo Ok Poi qua Mettiamo Allora Così 10 Per 10 Ok Sabbia Ok Qua mettiamo Un po' di Sabbia 9 Vediamo un po' Tu come stai procedendo Igor? Guarda Prova a guardare La mia casa Per ora La mia casa Invece Cioè la mia casa Sta venendo bene Cioè prova a dirmi La mia com'è Cioè come sta venendo Ora arrivo Cioè uno col tridente Io lo prendo Il tridente Eh ma non è detto Che te lo dia Eh lo so Tu dove sei che ti vorrei far vedere Che ti vorrei far vedere La casa mia Ora arrivo io Allora Io sto scavando la betulla Se vuoi te la do No 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 la betulla non mi serve Ce n'è un bel po' Ora non mi serve Non mi serve più legno Grazie Ok L'ho preso io Ok Qua sto facendo Qua da me c'è anche una caverna Perfetto Se ho voglia di Fare qualcosa Poi Se vuoi Puoi venire Che ti faccio vedere Un po' Cosa mia Sì a secondo Ok Qua Possiamo fare questa cosa Quindi tac 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 Ok Il vetro è pronto Perfetto Non so se ti piacerà come casa Forse mi dirai che schifo Magari Poi vabbè in creativa mica può venire una roba pazzesca C'è in sopravvivenza Cioè dove sei? Perché per ora mi è venuta così Sei a casa tua? Io si Allora vieni un attimo Siamo finita di mettere questo legno Bella Vediamo Vediamo Domani tu puoi Io non lo so Che se puoi o dopo domani facciamo una piccola live Non so Vieni un attimo che poi andiamo a dormire Sì Arrivo Allora Come puoi vedere Dalla forma quella è casa mia Però Ti do un consiglio Al posto di mettere per terra La La legna Mettici La pietra Sì sì infatti è quello che volevo fare Però guarda secondo te come sono messo Dai bene Ti è avanzato un po' di vetro? Certo Ho sette di vetro Se vuoi te lo do Ti do una mela in cambio Grazie Grazie Io vado a dormire Anch'io Ah Me la mangio adesso una mela Che fa bene alla salute Ok Mi servirebbe qua Dimmi quando vai a letto Che io mi sto mangiando Sto facendo la cena Ma vai pure Vai pure No Non è finito il cibo Lo ce l'ho Ce l'ho io Il cibo No no ce l'ho il cibo ma Nel senso la fame Ho la fame alta Aspetta Alzo un po' che la casa mia Poi Io devo andare Che Che montiamo anche il video Perché non stai dormendo? Ora sì Ok No l'ho scritto in ritardo Cavolo Non devo fare questi sbagli Vediamo qua Ok Faccio un po' chiaro E un po' scuro Ok Degli zombie mi stanno Accircondando No Due creeper vicino a casa mia Eh Vedi Essere in acqua Che più bello Ma io sono sull'acqua C'è più o meno Barchetta Quindi Solo per alzare un pochettino Alzarei tipo Così Ok 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 Noia Male Oh Carote pronte Dopo che ho fatto il tetto Spengo Così Montiamo il video Senti Senti se ti faccio questo favore Tipo Se mi fai questo favore Che Non riuscirei a mandartelo a questo video Così lo montirai Non so come Se si può Cioè me lo puoi mandare Io te l'ho molto volentieri Senti se Penso che dalla PS Non si può Questo mi fa girare un po' Ma si Io niente Ok 17 Ci sta a fare tutto Quindi Metto così 17 di questi Ok Uh Bonito Bonito 64 Stacco Buono Riesco a fare tutto Con 64 Guarda Aia Ma quanto fanno male Sono rimasto con mezzo cuore Guarda se dei creeper mi fanno esplodere la casa Io mi incavolo Ok Cioè io sto già facendo il tetto Ok Ciao No 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 Non rubarmi niente No Ti rubo niente Da Redammi Redammi Dammi quello che mi hai rubato Non ti ha rubato niente Sono serio No Mi manca Una cosa Non è vero Cosa Non lo so Però mi manca E invece non è vero Si No Non ti rubo da niente Io Sicuro Ugiardo Io me ne vado Legno Io lo sto costruendo a casa mia Io ho paura che mi spawnano però i mostri So In casa che Ho chiuso tutto Che torce No Le torce ancora no Perché Cosa Perché non ho ancora le torce Non ho trovato ancora il Cosa Se mi dai un po' di tronchi di quercia Ti do un pezzo di carbone Allora devo andare a farli No quanti ne hai nella cassa Zero Ah è vero Eh no Te lo regalo Guarda Sono buono Due Grazie Perché giù per barca Ma noi dalla PS Tipo Riusciamo Tipo Come fanno gli altri Youtuber Tipo Uno sta zitto E E uno può parlare E E l'altro non lo sente Mi disattivi l'audio Dal party Ho capito ma ogni volta andare sul party Che palle Che palle È l'unico motivo Vabbè Vabbè ragazzi Sapete cosa vi dico Questo video Lo posso concludere qua E noi ci vediamo in un prossimo video Che palle Che palle Grazie a tutti.